prendiamo quest'altro esercizio limite per x che tende a meno 2 di linea di frazione al numeratore abbiamo 3x alla seconda più x meno 10 tutto fratto x alla seconda meno 5x meno 14 ora se andiamo a sostituire che cosa troviamo troviamo qui 3 per meno 2 tutto alla seconda meno 2 la seconda fa 4 3 per 4 fa 12 più x ovvero meno 2 e poi meno 10 quindi al numeratore troviamo 0 al denominatore troviamo meno 2 tutto la seconda meno 5 per meno 2 quindi sarebbe 4 più 10 poi meno 14 e come risultato fa 0 ora praticamente abbiamo una forma del tipo 0 su 0 ora siccome sopra è polinomiale sotto è polinomiale possiamo ricorrere sicuramente uno dei metodi alla scomposizione quindi per poter scomporre questo polinomio ci rifacciamo quindi alle regole sulle somme i prodotti eccetera eccetera visto che sono comunque dei trinomi di secondo grado oppure applichiamo la divisione con ruffini che non sbaglia mai adesso sicuramente non dovremo andare a ricercare noi il fattore annullante visto che questo meno 2 annulla sia il numeratore che il denominatore di conseguenza quindi andiamo a riportare i coefficienti dal più alto al più basso in maniera ordinata quindi 3 che indicherebbe il 3x alla seconda più 1 al posto quindi sarebbe il coefficiente della x e poi meno 10 che sarebbe il termine noto faccio le due sbarrette a sinistra a destra faccio quindi la sbarretta orizzontale sotto metto il termine che annullato questo polinomio in questa posizione e poi faccio cadere sotto la linea orizzontale il 3 e quindi lo riporto poi faccio 3x-2 che fa meno 6 e quindi riportiamo il meno 6 sotto l'1 1-6 che fa meno 5 poi meno 5 per meno 2 che fa più 10 e vedete che meno 10 più 10 fa 0 ora vedete che abbiamo ottenuto la scomposizione dove ero partito da un polinomio di grado 2 quindi lo scompongo come il prodotto tra un polinomio che faccio calare di grado di 1 perché l'ho diviso per un grado in sostanza cioè fare questa divisione come dividerlo per x più 2 e quindi qui avrò 3x meno 5 che è rappresentato da questo 3 e questo meno 5 poi x meno il fattore annullante quindi x meno meno 2 ovvero x più 2 questa è la scomposizione del numeratore ora passiamo alla scomposizione del denominatore quindi abbiamo quindi 1 che significa x alla seconda meno 5 per la x termine noto 4 meno 14 a destra della sbarretta tiro l'altra sbarretta verticale poi la sbarretta orizzontale rappresento il fattore annullante che è meno 2 faccio scendere sotto la linea della sbarretta orizzontale l'1 quindi 1 per meno 2 che fa meno 2 e lo riporto sotto il meno 5 meno 5 meno 2 che fa meno 7 meno 7 che moltiplica meno 2 fa più 14 meno 14 più 14 che fa 0 quindi vedete che abbiamo trovato la nostra scomposizione che è x meno 7 che moltiplica x meno il fattore annullante quindi x meno meno 2 ora vedete che se andiamo a riscrivere scomposti il numeratore il denominatore quindi che cosa andiamo a fare quindi andiamo praticamente a scrivere tra x meno 5 che moltiplica x più 2 tutto fratto x meno 7 che moltiplica x più 2 quindi semplifichiamo semplifichiamo quindi la forma 0 su 0 in pratica e quindi alla fine ci rimane meno 11 su meno 9 e che sarebbe quindi 11 noni che sarebbe il risultato del nostro limite ci sarebbe stato in realtà un modo più semplice per risolvere questo limite quindi applicando la procedura di opital qui siamo già nell'ambito delle derivate quindi se noi andavamo a calcolare il limite per x che tende a meno 2 di questa cosa che ci dava una forma indeterminata 0 su 0 potevamo calcolare in maniera più semplice il limite per x che tende a meno 2 facendo quindi la derivata del numeratore sulla derivata del denominatore ora per poter derivare il numeratore quindi devo spostare davanti l'esponente quindi fare 6x e poi più la derivata di x che è 1 al denominatore avremo fatto quindi 2x che è la derivata di x alla seconda meno 5 quindi andando poi a sostituire il meno 2 vedete che abbiamo qui 6 che moltiplica meno 2 più 1 quindi 6 per meno 2 fa meno 12 più 1 che fa meno 11 e poi qui avremo avuto sotto 2 per meno 2 che fa meno 4 meno 5 e che poi sarebbe stato quindi meno 9 al denominatore e quindi 11 noni andremo a comunque fare degli esercizi particolari con opital un po più avanti oppure prendiamo quest'altro esercizio questi temi sono stati tratti principalmente o dall'università di bergamo o dall'università di brescia o comunque da temi ed esercitazioni varie di scuole di scuole superiori insomma parliamo comunque di licei scientifici allora abbiamo il limite per x che tende a meno infinito di aperta tonda la radice quadrata di 1 più 4x alla seconda meno la radice quadrata di 3 più x alla seconda per avere questo ed altri esercizi sulla matematica ti consiglio di andare nell'eserciziario in cui troverai tantissimi esercizi riguardanti lo studio di funzioni le derivate gli integrali l'algebra lineare e le funzioni a due variabili chiaramente per una comprensione più completa di tutti gli argomenti esiste il corso completo di matematica che parte dal ripasso delle equazioni allo studio di funzioni derivate integrali algebra lineare funzioni due variabili ed infine alcuni test esiste anche in associato il video corso sui teoremi in cui potete trovare i principali teoremi della matematica in alternativa potete seguire il percorso con i mini corsi e che in cui appunto all'aspetto teorico sono associati anche gli esercizi pratici dell'eserciziario che partono dai concetti base alle prime equazioni dall'equazione i primi studi di funzioni derivate integrali funzioni due variabili algebra lineare e teoremi mi raccomando seguite il canale ci vediamo sempre qui a parlare di matematica sempre col vostro andrea il matematico